Il Comune dell'Aquila punta ardientro in aula in sicurezza il prossimo 7 aprile. Per questo ieri e oggi al via uno screening riservato ad alunni, personale, ma anche ad autisti di scuola, bus e del trasporto pubblico locale in due punti, nella palestra della scuola d'Antiarighieri e a Pile nella scuola ex Rodari. Nella prima giornata, su 278 tamponi, due positivi. Alta affluenza anche nella seconda giornata. Per il sindaco Pierluigi Biondi, la prevenzione rimane l'unica arma possibile in questo momento per restituire ai ragazzi una graduale normalità. È fondamentale che la gente risponda, è fondamentale che il Comune faccia queste attività, perché non c'è altro modo per contenere il virus se non quello di testare il più possibile. Si tratta di una popolazione che non ha avuto il vaccino, perché parliamo di ragazzi o ragazzini nella maggior parte dei casi. L'obiettivo è quello di ridare a queste generazioni il diritto alla socialità, che non gli può essere alienato, ma poterlo fare con il grado di sicurezza il più possibile elevato. È per questo che abbiamo esteso lo screening anche agli operatori del trasporto pubblico locale, a quelli degli scuolabus, in maniera tale che insieme ai vaccini fatti ai docenti e non docenti, insomma tutti gli addetti delle scuole, insieme si possa creare un luogo sicuro dove consentire a questi ragazzi di formarsi, di crescere e di abituarsi a diventare uomini senza dover subire questo strazio del contenimento della DAD e delle chiusure dentro casa. Intanto Pizzoli e Capitignano escono dalla zona rossa. Il comune guidato dal sindaco Gianni Anastasio ha disposto uno screening in drive-in per la giornata del 6 aprile. Stessa cosa e stesso giorno anche per Cagnana Miterno è scoppito. All'Aquila intanto i contagi sono tornati a salire dopo una lieve flessione, mentre c'è una certa preoccupazione a Barisciano con un aumento dei casi e il sindaco Fabrizio D'Alessandro, alla luce dell'aumento dei numeri, ha invitato tutti a comportamenti virtuosi.